buongiorno a tutti vi ricordate il ghiacciaio della lecce svizzera o meglio quello che rimane dei grandi ghiacciai che occupavano quasi tutto il continente europeo nell'era glaciale e che purtroppo oggi stanno andando quasi verso la fusione la scomparsa quasi totale con il cambiamento del pianeta però il ghiaccio della lecce rimane abbastanza grande avevamo accennato di quelli che erano i caratteri dei grandi ghiacciai delle grandi lingue ghiacciali del di tipo alpino avevamo visto soprattutto nelle zone del gran sasso quelli che erano i segni i segni e le morfologie lasciate dai ghiacciai poi avevamo studiato anche qualche cosa di quelli che sono i principali elementi del ghiacciaio qua lo vediamo il nostro il nostro ghiacciaio della lecce eccolo qui possiamo ingrandire quella che è la sua lingua questa è la lingua centrale qua accanto abbiamo una valle sospesa cioè un ghiacciaio che una volta giungeva a confluire con il ghiacciaio principale con la lingua con il fiume glaciale principale che poi è rimasto in parte vuoto non si congiunge più quindi le due valli sono staccate e naturalmente e naturalmente la valle centrale qua rimane rimane staccata qui il fiume glaciale ci mostra alcuni dei suoi elementi caratteristici ci mostra tutte queste fratture che poi sono in realtà dei crepacci nel ghiaccio che prendono il nome di seraccate che sono dovute al fatto che il fluire del ghiaccio è più veloce nella parte superiore più lento nella parte basale dove fa tritto con il fondo e quindi crea tutte queste fratture poi qua abbiamo visto anche le morene le morene sono costituite da materiale detritico rocce prevalentemente di ogni dimensione frammenti di roccia più o meno spigolosi che precipitano alla sommità del ghiaccio credo che con il fiume del ghiaccio vengono vengono trasportati verso valle fino a che arriveranno al fronte glaciale e come in questo caso e al fronte glaciale poi si fondono fondono lasciando quelle che sono le le morene ecco qua poi sul fronte glaciale molto spesso queste morene possono generare anche anche dei dei laghi allora seguiamoci questo ghiacciaio questo ghiacciaio è lungo circa 14 chilometri è il più lungo ghiacciaio delle alpi perché come potete vedere ha un una zona di ricarica un circo glaciale un circo glaciale facciamolo con la manina estremamente ampio ecco e quindi questo circo glaciale raccoglie una grande quantità di neve e poi la neve si incanala verso il basso maggiore la quantità di neve che il circo glaciale cioè la zona di alimentazione del ghiacciaio raccoglie tanto più lungo sarà la lingua glaciale che scende verso valle naturalmente tanto più a lungo potrà scendere noi sappiamo che la neve che precipita qua nella zona di di accumulo no si si spessisce si trasforma piano piano in ghiaccio perché comincia a espellere l'area intestiziale e una volta diventata ghiaccio inizia il suo fluire la neve che precipita qua nella zona di ricarica del ghiacciaio del suo circo glaciale impiega vari anni per arrivare fino alla zona di ablazione e poi scendere verso la sua fine questo è uno dei motivi per cui la risposta del ghiacciaio non è mai immediata al cambiamento climatico alcuni dei nostri ghiacciai ancora continuano alcuni addirittura a crescere ma perché la neve che loro raccolgono magari si è formata in una fase particolarmente fredda di alcune decine o magari anche 50 anni fa e quindi noi abbiamo questo parziale effetto ma quasi tutti i ghiacciai minori è il caso di questo ghiacciaio qua vedete ha una zona di ricarica più piccola quindi la sua lingua glaciale è più breve tant'è che non si congiunge più con il fiume principale ma è praticamente interrotta di queste forme ne abbiamo parecchie andiamo a vedere quest'altro ghiacciaio vede questo ghiacciaio qua ha una lingua più breve qui si ferma a 1930 metri mettiamo la manina di Gugolerta mentre vediamo invece che il ghiacciaio della Lecce arriva fino a 1800 e qualcosa metri quindi scende 100 metri più a valle perché perché la sua zona di ricarica la quantità di ghiaccio che raccoglie è minore vediamo come quando più ghiacciai si raccolgono fra di loro la morena che si forma lungo i bordi del versante dove riceve il materiale che crolla dalle pareti ripide dalle pareti scavate dal ghiacciaio si uniscono e lasciano queste morene morene mediane che qualche volta possono essere utilizzate anche dagli escursionisti questo ghiacciaio qua vedete è un poco più piccolo arriva qua qui evidentemente fa un salto e in questo salto è molto evidente la seraccata cioè il formarsi delle crepe eccole qua dei crepacci nel ghiaccio dovuti proprio alla rottura di pendio alla base del ghiacciaio che fa sì che la lingua glaciale si incurvi e quindi lasci queste strutture che dicevamo possono essere molto pericolose per gli escursionisti perché ecco una seraccata caratteristica vedete come le crepe i crepacci sono messi in evidenza dall'ombra quindi sono crepacci molto profondi possono essere decine di metri e se un escursionista casca là dentro credo che se la caverebbe piuttosto male questo è un altro dei ghiacciai delle alpi e qua dietro alla sua zona di ricarica ora naturalmente essendo Google Earth un foto mosaico alcune di queste fotografie sono state scattate quando c'era la neve fresca e ti dà questo effetto di non perfetta copertura ecco qua qui abbiamo un altro bel ghiacciai questo ghiacciaio qua potrebbe ricordare un po' che è il ghiacciaio di Campo Imperatore ora non so che nome ci abbia guardate immaginatevi immaginatevi che questo sia la zona di ricarica di Campo Imperatore del Gran Sasso qui si forma il circolo il circolo scende verso valle verso valle piano piano la lingua glaciale comincia a fondere sul lato sul lato rivolto verso nord quello che non riceve molta illuminazione durante il giorno si formano dei piccoli circhi glaciali eccoli qua dei circhi avventizi potrebbero essere tranquillamente quelli del monte Scinderella che vanno che vanno che vanno a confluire nella lingua principale poi ora che non toccano più nella zona centrale il circolo si è ritirata la morena non è più portata fino alla zona al circo principale non confluisce più con la lingua glaciale principale ma rimane rimane indietro e quindi abbiamo dei classici classici circhi eccolo qua il classico circo con la sua zona di accumulo una piccola zona di ablazione e le morene che vengono lasciate nella zona nella zona frontale via via che il ghiacciaio si ritira la morena arretra 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 qualche volta la morena abbiamo visto può lasciare dei circhi glaciali sull'altro lato i circhi sono più rari anche perché questo è il lato colpito dal sole quindi qua la neve non tende ad accumularsi anzi questo lato qua avrà una maggiore un maggiore sbalzo termico tra il giorno dove c'è molto molto sole la notte quando sarà freddo e quindi tenderà probabilmente a produrre una quantità di detrito maggiore e noi lo vediamo abbastanza bene vediamo come il bordo ci sia un netto scalino sulla pendenza del versante del ghiacciaio guardate come è netto questo è la zona che è stata erosa dalla lingua glaciale che come abbiamo detto con il suo peso tende a espandersi quindi mangiare erodere lateralmente e a dare la forma a u alla valle è contrariamente a quella a quella fluviale che invece a v cosa vuol dire questo che è una volta avevamo avevamo il ghiaccio che riempiva completamente questa valle fino a questo lato qua di dove c'è questo scalino se noi volessimo cercare delle rocce striate probabilmente le andremo a cercare su questi lati dove dove è passato la lingua glaciale se naturalmente l'erosione e il tempo e l'alterazione delle rocce non l'ha cancellata questo qui è sempre un altro bel circo con la sua con la sua zona a crepacci dove gira ed eccola qua la zona di ricarica avevamo parlato anche gli altri elementi ecco alla fine alla fine del ghiacciaio la valle in questo caso è sbarrata da una diga ma in altri casi può formare delle morene e le morene andare a formare dei dei laghi dei laghi come in questo caso in questi casi questo di nuovo una diga il ghiacciaio più caratteristico ne abbiamo parlato formato da un cordone di morene avanzanti è il lago di garda ma prima di andare a vedere il lago di garda vediamo anche gli altri gli altri elementi caratteristici io spero che voi vi siate divertiti con google earth andare a vedere come sono fatte queste zone allora avevamo detto che quando due lingue glaciali corrono luna a fianco all'altra abbiamo visto che il modellamento del versante è molto ripido perché il ghiaccio tende a scalzare si possono formare delle lunghe creste rocciose eccole qua che si chiamano arete eccola qua vedete il ghiacciaio e suoi circhi stanno mangiandosi mangiandosi la roccia le radici della montagna e formano delle creste affilate caratteristiche anche in questo caso il ghiacciaio col circo glaciale è rivolto al nord io sto girando l'immagine per poterci vedere meglio ecco in questo caso vediamo di nuovo tranquillamente il circo glaciale la zona di accumulo la parte di ablazione che non arriva più a fondo valle anzi qua ha lasciato questo mucchio di roba che è chiaramente la sua morena frontale quando più circhi si uniscono fra di loro lasciano delle zone a punta che vengono chiamati horn abbiamo anche detto che il più famoso di questi di questi monti a punta eccolo qua è appunto il mattelhorn o monte cervino eccolo qua ecco qua il monte cervino ora io non vorrei avere lasciato esasperato fatemi vedere se c'è una esagerazione verticale no non c'è nessuna esagerazione verticale è proprio è proprio fatto così il monte cervino è questo che immaginate come mai sia stato una montagna terribile per gli scalatori soprattutto quelli vecchi che andavano a giro con le canapie grosse a questa maniera non c'erano mica le corde in kevlar ecco eccolo qua allora vedete su un lato e sull'altro lato è scavato da delle circhi da delle forme di erosione glaciale eccolo qua tutte queste forme di erosione glaciale hanno lasciato questo corno questo corno in questo caso il mattelhorn che sarebbe il monte cervino qui ecco qua su quest'altro lato oppure il circo glaciale e il ghiaccio che sia si accumula e poi scende scende verso valle fino a raggiungere quello che una volta era una lingua glaciale che ora non c'è più vogliamo anche questo questa morena questa lunga morena lunga morena glaciale eccola qua caratterizzata da queste forme in alcuni casi sotto questa morena ci può anche essere del ghiaccio ancora del ghiaccio ancora non sciolto che magari aiuta a scivolare verso il basso abbiamo dei caratteristici laghetti che possono essere un fenomeno un po simile a quello che avevamo descritto a un fenomeno di scioglimento del blocco di ghiaccio che è rimasto sotto sotto la morena e quindi delle forme che nel gran sasso sono caratteristiche delle coppe di santo stefano anche in questo caso sul versante vediamo vediamo una superficie lasciata dal ghiaccio nel suo massimo al suo momento di massima di massima di massima espansione e questa superficie è una morena laterale questa morena laterale quelle che si vedono sul bordo del ghiaccio poi ritirandosi con la fusione della lingua glaciale lascia queste tracce che ci dicono che ci dicono qual è stata la massima altezza raggiunta ora qua siamo a cervinia quindi qua abbiamo tutti i nostri laghetti artificiali abbiamo le piste da sci abbiamo un sacco di belle cose ma al di là di quello che è l'uso umano del territorio vediamo ancora tutte le valli glaciali poi quando la valle glaciale viene abbandonata si imposta un corso di acqua e vediamo che il fondo valle inizia ad essere eroso da un piume da un torrente quindi assumere la sua forma incisa la sua forma a v ecco qua come si vede bene la vecchia valle glaciale ad u e questo sulco che entra che entra dentro potremo anche calcolare la velocità di erosione perché noi sappiamo che fino a 10 12 15 mila anni fa questo era un ghiacciaio e quindi questa erosione è avvenuta nel periodo successivo ora qua c'è uno strano deposito morenico fatto guardate lì che che roba mamma mia questo quando parlavamo di valorizzazione del territorio è chiaro che questo territorio con queste caratteristiche è un un valore anche economico il paesaggio qua avviene viene venduto correttamente correttamente per gli interessi per gli interessi umani ecco qua queste sono i sentieri le piste da sci e qua vedete gli impianti di risalita e quindi questo è un uso della montagna che bisognerebbe ragionarci un attimo quanto possa essere corretto ma in linea di massima il corretto uso del territorio vuole anche dire la sua conservazione forse altro perché un bene nessuno ci tiene che il bene sia sia abbandonato allora torniamo un attimo indietro prima di abbandonare le alpi allora rimettiamoci da questa dritti d'accordo allora vediamo come molte di queste vallate siano perché ti metti a girare siano valli glaciali eccola qua questo è il lago di ginevra che non si chiama lago di ginevra ma non mi ricordo come si chiami ed è chiaramente un lago lasciato da una di queste lingue glaciali che lo hanno abbandonato la stessa cosa qui ritorniamo riconoscete questo qui è caratteristico il ghiacciaio della lescia con tutte le sue lunghissime morene mediane e dietro dietro abbiamo un'altra lingua glaciali che scendeva verso nord passa nei laghi questo via interlaken dove l'unica cosa che so questo posto è venuta in mezzo a due laghi dove c'erano dove facevano le olimpiadi invernali noi invece possiamo andare a vedere io qua ora ci scrivo guarda e andiamo a cercare sul fronte sul fronte padano ecco qua il lago di garda il lago di garda eccolo qua è una caratteristico fronte glaciale d'accordo questo qua l'avevamo già accennato era pieno di ghiaccio una volta e sulla parte esterna guardate qui fateci caso queste che sto seguendo con la manina sono sono le morene le morene frontali cioè il ghiaccio arrivava fino a quel punto lì lasciava la sua morena centrale e poi si è ritirato fondendo ha lasciato in questa depressione il lago di garda il lago di garda è stato scavato dal peso del ghiaccio e profondo 180 metri sotto il livello del mare quindi la massa glaciale sopra era enorme e ha fatto sì che questa ruspa scavasse a in abbondanza sotto sotto la superficie qui siamo a un'altezza una quota di circa 100 metri su queste colline abbiamo detto ci fa il prosecco quindi è un ottimo un ottimo terreno per per il vino davanti davanti l'acqua del garda filtra attraverso questi depositi alluvionali e davanti sono tutte le riserie e quindi anche il tipo di uso del territorio naturalmente naturalmente condizionato dal dalla risorsa naturale questa è la valle dell'adige ecco qua questo è il fiume adige che scorre anch'esso come ben sapete in una valle valle glaciale si vede come ben potete vedere dalla forma adu in una valle glaciale queste sono le sue morene frontali quindi la valle dell'adige portava la lingua glaciale e depositava depositava il materiale su queste morene queste morene sono alte circa un centinaio di metri sul fondo valle quindi la lingua glaciale aveva tanto materiale da trasportare guarda come si vedono bene questi paesaggi caratteristici questa qui è chiamata la strada dei vini e c'è un motivo immaginate di climatico in cui questo terreno ciottoloso pieno di nutrienti difeso crea un microclima dentro queste valle qui e quindi un terreno un ottimo terreno per per le per l'agricoltura vi ricordate cosa si disse dell'adige quando si parlava quando a lezione a lezione parlavamo di frane parlavamo delle grandi frane ora devo ritrovare tu sono finite le frane 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 delle frane di la vini di marco non me lo ricordo cerco qua la vini di marco cerca eccoli qua eccoci qua avevamo parlato di frane di frane nella valle dell'adige in questo caso eccole qui vi ricordate c'è anche il sito paleontologico alla vini di marco in questo caso molte di queste frane eccole qua si sono messe verificate perché la roccia è fatta a franapoggio quindi favorisce lo scivolamento ma gran parte di queste frane si sono attivate dopo il ritiro del fronte glaciale e molte delle grandi frane delle alpi si sono formate proprio nel momento in cui si è ritirato il ghiaccio perché il ghiaccio spingeva cioè forniva l'appoggio alle pareti nel momento in cui si ritira il ghiaccio si è attiva la frana quindi molte grandi frane sono più o meno negli ultimi diecimila anni ecco questa frana qui guardate questa frana chiaramente sta occupando occupando e si sta espandendo nel centro della valle che prima era occupata dai ghiacci altrettanto quest'altra nicchia di distacco qua va qua dentro ora non è molto furbo fare le case proprio dove c'è una nicchia di accumulo qui invece ecco si vede quello che era il versante della montagna dove non era ancora eccolo qui questo era il versante della montagna tagliato e rosso dalla lingua glaciale e poi invece qui le frane che hanno occupato questo spazio ok queste sono tutte le cose che avevamo visto a lezione la volta la volta scorsa ma io volevo andare da qua un poco più verso nord per vari motivi perché perché per far lo sborone perché voi per dirvi che con il professore ferrini noi siamo andati a vedere un sacco di posti allora andiamo a vedere un vulcano di quelli un un ghiacciaio di quelli veri prendiamo prendiamo il nostro tappeto volante e andiamo in Islanda eccola qua Islanda ci sono dei ghiacciai di un certo rilievo allora